Presidente Zaia, come è andato l'incontro con Renzi? Non è il primo incontro che faccio con dei presidenti incaricati, è stato un incontro al di là del cerimoniale e quindi tre quarti d'ora si spiegano tutti. Il nostro segretario Salvini ha esposto fino in fondo le sue istanze, dico da Veneto che ho rappresentato le istanze del territorio che oggi sono rappresentate da emergenze reali, che sono quelle della disoccupazione, che sono quelle delle nostre imprese gestite da degli autentici eroi, che sono i nostri imprenditori, che lavorano in un contesto di fiscalità dove la pressione fiscale è del 68,5% contro un 46% della media europea. Questi dati sono i dati che porta una regione che paga 21 miliardi di tassi a Roma e li lascia lì, quindi noi manteniamo l'apparato pubblico. Ovvio che oltre a questo ho chiesto anche a Matteo Renzi, il quale presidente incaricato, di avere un'attenzione anche per quel che riguarda il dissesto idrogeologico. Noi siamo una regione in grado di cantierare molte opere, si finisca a distanziare soldi per regioni che poi inevitabilmente non utilizzeranno le risorse perché non sono efficienti. Si diano risorse a chi ha pronti i cantieri, noi ce li abbiamo. Ma ha capito i problemi dei Veneti? Beh, io non so dire che grado di dimensione ha a prendere tutte queste istanze che presentiamo. Dico semplicemente che noi abbiamo fatto dei passaggi formali, abbiamo presentato le istanze dei Veneti e dopodiché se non verranno comprese fino in fondo nell'azione di governo ci faremo sentire come al solito. Lei è il primo sindaco a terremotato che durante le consultazioni incontra il presidente del Consiglio incaricato. Sì, è stato un incontro sicuramente interessante. Ringrazio il segretario Salvini che ci ha dato questa opportunità di portare la voce dei territori direttamente appunto al presidente del Consiglio. Le richieste che abbiamo fatto sono legate comunque alla maggiore autonomia che i nostri comuni devono avere per quello che riguarda gli investimenti con l'abolizione per alcuni anni del patto di stabilità, l'esenzione della fiscalità sulle zone sia terremotate che alluvionate, non solo emiliane ma un po' di tutta la padagna e cercare di portare al centro quindi della politica nazionale ancora i territori, quindi principalmente ovviamente i comuni che sono la trincea della politica e sono la trincea appunto dell'amministrazione. Massimo Sertori, presidente della provincia di Sondrio, come è andato l'incontro con Renzi? È stata un'occasione per portare la voce dei territori, soprattutto i territori montani. Io arrivo da una provincia che è interamente montana, l'unica d'Italia insieme a Belluno e quindi ho consegnato personalmente al presidente Renzi e ai suoi collaboratori un documento di sintesi rispetto a quelle che sono le necessità della montagna. La montagna non deve essere assistita, è sufficiente che alla montagna si lasci la possibilità di utilizzare le proprie risorse. Voglio ricordare che in Italia la produzione dell'energia idroelettrica è pari a 4 miliardi all'anno e solo il 2-3% di queste risorse rimangono sui territori. Qui è una cosa che bisogna assolutamente sistemare e nel momento in cui si fa una compensazione sui territori per l'utilizzo di questa importante risorsa che è l'acqua e l'idroelettrico ci sarà la possibilità quindi di andare a perequare quelle differenze che fanno sì che chi abita in città ha dei servizi diversi rispetto a chi abita in montagna dove inevitabilmente per poterla mantenere le genti la devono abitare ma i costi dei servizi sono superiori. Questo è un esempio di come una risorsa, quindi senza chiedere assistenzialismo, ma una risorsa può generare un sistema virtuoso, sto pensando all'agricoltura di montagna, al mantenimento dei territori e tutta una serie di situazioni che consentono quindi, sto pensando ad esempio alle scuole e ai parametri delle scuole che non possono soprattutto in montagna essere standardizzati, insomma tutta una serie di considerazioni che abbiamo sintetizzato in un documento e abbiamo spiegato e abbiamo lasciato a Renzi e i suoi collaboratori.